Ciao ragazzi, sono Tilly, un uccellino mi ha detto che ci sarà questa sera uno spazio dedicato a me su 45 giri, cartoni animati e telefilm, ma che passione! Ecco, e allora io vorrei approfittare per mandare un saluto a tutti voi, a tutti gli appassionati e per ringraziarvi, per salutarvi, ringraziarvi per l'affetto che so che mi circonda per un lavoro fatto ormai 30-40 anni fa, perché vi portate dentro probabilmente il ricordo della vostra infanzia, della vostra adolescenza e questa mia voce so che per alcuni di voi insomma è stato quasi un amico, una voce che vi ha un pochino accompagnato, quindi grazie e ringrazio Nico Rossetti che mi dà questa opportunità e vorrei fare anche un saluto particolare a Lella Dido, so che collaboro con questa pagina di Facebook dove commenta e dove scrive e naturalmente io la conosco perché i suoi post sulla pagina di Mermiart di Emiliano sono sempre acuti e puntuali nell'analizzare quello che Emiliano fa, quello che posta, eccetera. Quindi un grandissimo abbraccio Caradella e ringrazio Emiliano. Emiliano, titolare del canale Mermiart, Emiliano è quello che ha riportato alla luce tutto questo lavoro con tanta tenacia, è riuscito e vi dirò che ha riportato alla luce anche tanti ricordi che ormai per me non c'erano più, vi dirò che ha scoperto lui alcuni brani che io avevo inciso, che non mi ricordavo, quindi come dire, mi ha aiutato anche a ricordare e siccome sono stati momenti molto belli per me molto felici, ho lavorato insieme alla mia famiglia, quindi è stato veramente un periodo molto bello. Quindi io vi ringrazio ma proprio di cuore, abbraccio tutti e poi a tutti voi adesso auguro buon ascolto sperando che possiate apprezzare quello che Nico sta facendo insomma e questa serata dedicata a me non può che rendermi molto molto felice. Ciao a tutti ragazzi, un grande grandissimo abbraccio, ciao!